Riccardo Infante, buongiorno e benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere la sua opera editoriale intitolata Sotto la coperta d'oro pubblicato dall'edizione Ensemble per la collana Poesia. Sotto la coperta d'oro troviamo le poesie di Riccardo Infante. Riccardo Infante lo ricordo, nato in Italia, da famiglia ammista italo-canadese, ha trascorso infanze e adolescenze in Iran. Insomma, ha girato tutto il mondo Riccardo Infante, o quasi? Beh, diciamo che soprattutto nella prima parte della mia vita sono stato parecchio girovago, che sono stato anche in Romania, Iraq, Medio Oriente, diciamo l'ho girato in lungo e in largo, però dove mi sono fermato per più anni è stato l'Iran, che diciamo mi è rimasto nel cuore. Io a volte quando me lo chiedono dico di essere un esule iraniano. Essere un esule iraniano è detto in questi giorni, in questi giorni dove quella parte, quella parte geografica e di stato è profondamente nell'occhio del ciclone per quello che è successo e speriamo non succeda di nuovo. Ecco, che cosa sente lei rispetto a questo stato, a questa parte di mondo chiamata Iran, l'antica Persia, gloriosa Persia? Eh, sento come le persone, come tante altre persone che conosco e che lo hanno, hanno vissuto in quel paese, non lo hanno visitato da turisti, ma hanno vissuto, hanno abitato, hanno conosciuto le persone, eccetera. Sento un senso di profonda angoscia e anche di spesso diffusa incomprensione rispetto al fatto che il regime che oggi governa l'Iran, un regime integralista islamico, che nacque appunto con la rivoluzione di Comeini nel 1979, tra il 78 e il 79, quando noi appunto fumo, noi nel senso la mia famiglia, ma tante altre famiglie italiane e non solo furono costrette a venir via dal paese. Noi abbiamo conosciuto negli anni precedenti un paese diverso, non il paese del Bengodi, il paese sotto un regime abbastanza dispotico, però filo occidentale, il regime dello Shah, aperto alla cultura occidentale, sostanzialmente tollerante dal punto di vista dei costumi, intollerante e severo verso gli oppositori politici, su questo non c'è dubbio, e anche in buona misura corrotto, però un regime mentalmente, spiritualmente aperto a tutti i livelli, le classi dirigenti erano sicuramente molto occidentalizzate, avevano fatto proprio i costumi europei o americani e anche le classi popolari, almeno quelle delle grandi città, non erano particolarmente coinvolte nelle tematiche religiose o nei costumi tradizionali. Tra l'altro noi nel nostro piccolo podcast alcune volte abbiamo raccontato l'Iran, grazie anche alla collaborazione della giornalista Faryan Sabahi, e devo dire che l'abbiamo raccontato ultimamente da una prospettiva molto bella, perché insieme con Domenico Ingenito abbiamo raccontato il libro di poesie, a proposito di poesie, io ti parlo dei Confini della Notte di Foruk Farosad, che era questa poetessa persiana veramente straordinaria, al di fuori delle righe, è una donna nata a Teheran nei primi anni trenta e questo libro è veramente un libro veramente straordinario tutto quanto da conoscere. Ma adesso andiamo a conoscere il libro di Riccardo Infante. Che cosa ci racconta l'immagine di copertina? L'immagine di copertina che mi è sembrata molto bella, molto suggestiva, evocativa, ci racconta di una nave che è quasi una nave fantasma, è sicuramente una nave che ancora galleggia su uno sfondo abbastanza astratto, ma è chiaramente in pessime condizioni, e quindi rappresenta il tentativo di un viaggio più che un viaggio e con i suoi colori grigi e scuri rappresenta forse un viaggio verso l'albilà più che verso un luogo di speranza. D'altro canto il tema fondamentale dell'opera è un po' questo, il tema delle grandi immigrazioni della nostra epoca come ricerca di una speranza che però più delle volte si conclude tragedia, indelusione, non tanto e non solo certamente per i naufragi e per le persone che finiscono in fondo al mare, insomma quanto per le difficoltà di trovare veramente quella terra promessa che molti di loro legittimamente cercano. E allora le chiedo a proposito di terra, di terra promessa, questa è davvero Itaca? Ah, direi certamente no, direi sicuramente no, non lo è, non può essere, d'altro canto l'Itaca della mia personale esperienza, è comunque un'Itaca non mai concretizzabile in una realtà storico-politica definita e concreta. Eppure dice a un certo punto, dimmelo tu dove si trova Itaca, indica il punto. Certo, nel senso è una domanda però un po' che rimane aperta, certo vi è una speranza, il discorso lì diciamo nel mio libro io ho cercato di fondere varie linee di narrativa, cioè da un lato quella appunto più legata alla storia e anche alla cronaca contemporanea, dall'altro quella mia personale di in un certo senso esule riparato qua in Italia. Infatti parla anche della lontana Persia, è anche un libro che entra dentro i suoi ricordi personali per raccontare la poesia, la poesia anche di quel mondo che necessariamente deve essere raccontata, deve essere ascoltata. E a proposito di ascoltare poesie, quale sceglie per farci ascoltare una sua poesia? E qui sono un po' in difficoltà perché il mio più che un libro di poesie, come forse saprà, è un testo che è concepito per essere letto dall'inizio alla fine. Letto dall'inizio alla fine probabilmente è nell'ambito di uno spettacolo, insomma, teatrale. Però diciamo, proverò a leggere questo brano ma... La sento poco convinta, veramente, come mai? No, non mi sente molto a mio agio. Nel frattempo avevo segnalato con vari foglietti quale brano eventualmente a leggere. E allora vado a prendere uno di quei foglietti e ci faccia ascoltare la poesia a cui si riferisce quel foglietto. D'accordo, è la parte di una sequenza, naturalmente. C'erano dei cadaveri sulla spiaggia, la donna, due bambini. Seduti sulla riva c'erano due stranieri, due poco di buono, due fuggiaschi, venuti da chissà dove. Secondo alcuni erano dei musicisti che una volta suonavano nell'orchestra civica di Iplip, ma non avevano strumenti con sé. Secondo altri, venivano da Babol sul Mar Caspio e i loro barracani profumavano di fiori d'arancio. Deserto dietro di loro, deserto davanti, il mare era un cimitero. Sia pure con una sua vita segreta, sepolta sotto il pelo, nascosta da un velo di sale. Seduti fianco a fianco sulla spiaggia, i due stranieri guardavano in silenzio il grande mare calmo, guardavano lontano il curvo cielo senza dire una parola. Ascoltavano l'eco delle piccole, deboli onde che si allungavano sull'arenile, verso i loro sandali di cuoio consumato. Avanti e indietro, avanti e indietro. Un'immagine appropriata del tempo. Lei poco fa diceva che queste poesie potrebbero essere, anzi sono un monologo, che potrebbero essere lette a questo punto dall'inizio alla fine senza interruzione. Lei ha già pensato di trasformare questo libro in un monologo teatrale? È l'idea che è alla base di questo libro. Non è propriamente tutto un monologo perché prevede delle parti recitate da un coro, però diciamo che ha un attore principale che viene a raccontare in prima persona la sua storia e poi ci sono delle parti recitative. Dovrebbe essere proprio rappresentato in teatro, insomma, con qualche tipo di scenografia minimale, quantomeno. La scenografia minimale si addice perché è la parola che diventa personaggio principale, protagonista. Ah, sicuramente. Questa è la cosa più importante. Sotto la coperta d'oro è il titolo del libro di Riccardo Infante. Lo ricordo, il libro è pubblicato dalla casetrice Ensemble. Quando noi raccontiamo le poesie, Riccardo Infante, facciamo un gioco ma molto banale, mi perdoni. Chiediamo all'ospite, in questo caso lo chiedo a lei, di prendere in mano il libro. L'ha preso in mano? Sì. Di aprirlo a caso e a che pagina l'ha aperto? Ci dica. 55. E allora, quello che trova pagina 55, lei ce lo fa ascoltare. Grazie. Proverò. Torno, torno alle rive del Mar Caspio, giù dalle cime dell'Elbord per i cupivarchi, dove nei tumuli di pietre cospirano i nemici dei palavi. Viaggiavo a dorso di cavallo, con la mia famiglia e i miei tappeti, con i datteri e il cumino, il melograno, il dozalè. Tutto questo, però, era prima della grande guerra, prima che le bombe a grappolo rendessero il mondo inabitabile, prima che le rosse mura delle rocche medievali fossero conquistate dai fanatici e di nuovo popolate da ladroni e da assassini, dai russi, dai siriani, dai turcomanni e dagli israeliani, dai caschi blu dell'ONU, dai francesi. Dagli amici americani, dagli sciiti e dai fratelli musulmani. Da tutti e da nessuno cercavo scampo sotto la pioggia di granate, nel fuoco delle raffiche, sui sentieri sabbiosi della Siria, sulle pietre laviche delle piste afghane, poi attraverso l'Armenia e fino al mare greco, dove si diceva che tutto fosse pieno di dei. Sotto la coperta d'oro, il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Riccardo Infante, lei come si è avvicinato alla parola poesia? Io mi sono avvicinato alla parola poesia della poesia fin da sempre, poi ho avuto una vita complicata fin dall'infanzia, poi ho avuto una vita complicata che mi ha portato lontano e recentemente, più recentemente diciamo, in seguito a una crisi avuta intorno ai 45 anni di età, un divorzio e una… dicendo a un personale molto doloroso ho avuto occasione e tempo di ritrovare nella parola della poesia quel sollievo e al coltempo quella via di accesso alla realtà interiore oggettiva, universale, che la poesia per me rappresenta. E prima di salutarci, è tornato a scrivere in versi ed è tornato con il nuovo libro sotto la coperta d'oro, ma prima di salutarci Riccardo Infante, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni ho comprato un libro di Franco Buffoni, uno dei miei poeti preferiti, si intitola Iucci, è dedicato a una figura da lui amata ed è struggente come sempre, struggente e semplicissimo come sempre sono le parole che riesce a trovare questo artista incredibile. Delle bellissime parole d'amore per… Delle bellissime parole d'amore, certo. Franco Buffoni che è stato diverse volte nostro ospite qui nel nostro podcast, il posto delle parole, intanto grazie davvero Riccardo Infante e buona giornata. Grazie davvero a lei, buongiorno e arrivederci. Grazie.